Predisporre uno strumento di investimento alternativo al PNRR finanziato con titoli del debito comune europeo che possa sostenere da un punto di vista energetico paesi come l'Italia e la Germania in caso di interruzione del flusso di gas dalla Russia. Alla luce dei nuovi scenari geopolitici il ministro per il Sud Mara Carfagna in audizione al Senato avanza l'ipotesi di trattare con l'Europa per la creazione di una piattaforma gemella del PNRR appositamente dedicato al potenziamento dell'autonomia energetica. Concetti questi anticipati alcune ore fa dalla stessa ministra proprio ai nostri microfoni a margine di una visita a Napoli. Ascoltiamo l'intervista di Benedetta Piscitelli. Il ministro Ney di recente ha dichiarato che il Mediterraneo potrebbe essere un hub strategico ed energetico per tutta l'area europea. E alla luce di questo il PNRR potrebbe subire una revisione? Guardi, è chiaro che l'attenzione per esempio sulle materie prime, l'aumento dei costi delle materie prime, la difficoltà di reperirle, l'aumento dei costi dell'energia trasforma lo scenario, il contesto nel quale oggi ci troviamo ad operare. Lo rende molto diverso da quello del 2020 quando il PNRR è stato varato ed è stato lanciato. L'efficacia del PNRR oggi risiede anche nella capacità che avremo di operare magari singoli aggiornamenti in grado di sintonizzare il PNRR con i cambiamenti che sono intervenuti.